Ancora un incidente sulla pedemontana oggi, martedì 24 gennaio 2023, intorno alle 14.30, quasi all'altezza del distributore di carburante di Bayro. A scontrarsi una Ford Fiesta con a bordo un uomo e una lancia Y condotta da una ragazza. Entrambe le vetture sono uscite di strada finendo sul prato che costeggia la carreggiata. La lancia Y si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e carabinieri della compagnia di Ivrea. Il leso, l'uomo alla guida della Fiesta, mentre la ragazza è stata estratta dalle lamiere dell'abitacolo e dopo le prime cure è stata trasportata in ospedale. Non pare in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.